Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui. Sono tre anni che siamo in Parlamento. Li leggo tutti assieme gli scandali. Expo, Mose, Franca Antonio Genovese, la truffa dei fondi per la formazione dei giovani siciliani, Mafia Capitale. Tra l'altro la seconda tranche di arresti di Mafia Capitale è datata 11 mesi fa. Non 11 anni fa, 11 mesi fa. Lo scandalo della sanità a Lombardia, l'arresto del vicepresidente. Lo scandalo della metanizzazione dell'isola di Ischia. Lo scandalo, innumerevoli scandali legati alla sanità in Calabria, Trivellopoli. Ultime due settimane, due settimane, 14 giorni, sciolto Brescello per Mafia, un comune riconducibile al PD. Mai nella storia un comune dell'Emilia Romagna era stato sciolto per Mafia. Gomorra PD, indagato il presidente del PD in Campania per concorso esterno di associazione camorristica. E oggi l'arresto del sindaco di Lodi, tra l'altro, che fa perdere la faccia al vice segretario Guerini. Noi siamo opposizione. Possiamo stare qui ogni settimana, perché di questo si tratta ogni settimana, a continuare a delencare gli scandali legati alla corruzione e al sistema partitocratico, soprattutto del partito di maggioranza. Però questa è una fase nuova per il Movimento 5 Stelle. Noi ci stiamo proponendo in maniera chiara come alternativa di governo, per cui tutte le proposte fatte, costruite, sottoscritte, studiate, che sono state presentate poc'anzi dai miei colleghi, finiranno nei prossimi giorni in un vero e proprio documento che lanciamo oggi, che presentiamo oggi e lanceremo nei prossimi giorni, la Carta dell'Onestà. Raccoglierà tutte le nostre proposte contro l'emergenza della corruzione. Per la corruzione è un'emergenza e deve essere trattata in maniera, appunto, come fosse un'emergenza, come negli anni Ottanta e negli anni Novanta è stata trattata la mafia, anche perché mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia, senza, soprattutto lo scandalo di mafia capitale ce lo fa capire, ma tutti quanti, senza la corruzione dei politici, le organizzazioni criminali non avrebbero la forza che hanno. Ora, io vedo che il Presidente del Consiglio, per distrarre l'opinione pubblica da innumerevoli scandali che appunto travolgono il suo partito, gira l'Italia inaugurando anche opere che non occorre neanche inaugurare, perché non sono mai crollate o sono state già inaugurate 30 anni fa. L'unica cosa che il Partito Democratico Romano ha co-inaugurato, prima che i Carabinieri facessero polizia, non il Partito stesso, i Carabinieri, è la quinta organizzazione criminale di questo Paese, mafia capitale, che senza i politici arrestati 11 mesi fa, soprattutto del Partito Democratico, non sarebbe nata. Ora, noi abbiamo pronto un pacchetto, una carta dell'onestà, prima che Guerini perda del tutto la faccia e prima che Renzi perda del tutto la faccia, appunto travolti da questo scandalo, da scandali su scandali, hanno una questione, il problema del PD non è una questione morale, è una questione immorale, prima che perdano del tutto la faccia, devono ascoltare a tutti i costi le nostre proposte e devono votarcele, perché è possibile farlo. Noi diamo questo pacchetto, una carta dell'onestà, a disposizione del Governo, anche perché la legislatura continua, perché l'unico interesse del Movimento 5 Stelle è sconfiggere questo cancro, perché la corruzione è un cancro che coinvolge tutti i partiti, soprattutto adesso il Partito Democratico. Non sappiamo se... comunque vedremo se il Presidente del Consiglio vorrà e sottoporrà al baglio di Verdini questo pacchetto anticorruzione, perché può darsi, no? Perché ormai è di fatto entrato in maggioranza, nonostante le parole ipocrite e ridicolo che dice il Presidente Orfini. Perché nel momento in cui sei... così subisci questa sudditanza, no? Nei confronti di un partito come quello di Verdini che ha più indagati che... anzi, Verdini ha più processi che elettori e che è condannato in primo grado per corruzione, è evidente che difficilmente potrai ascoltare le proposte che provengono appunto. La carta dell'onestà, insomma, cozza un po' con la figura di Verdini. Questo è il Movimento 5 Stelle. Siamo forti, siamo alternativa di governo, siamo convinti che queste proposte siano giuste, siamo anche disposti, come ha detto il Deputato Bonafede, a trovare un accordo sulla prescrizione. Sospendiamo la prescrizione quando c'è condanna in primo grado. Così il delinquente che sa che si arriverà a sentenza di condanna, anziché buttare soldi pagando un avvocato, magari chiederà riti abbreviati, sconti di pena e si arriverà a sentenza di condanna e di assoluzione. Ma è il delinquente stesso che vorrà un processo più breve, perché spenderà meno soldi e magari otterrà delle pene inferiori. È proprio la riforma della prescrizione intesa come sospensione che produrrà una riduzione dei tempi processuali. È logico. Non lo vogliono fare perché adesso, perché Renzi è tirato dalla giacchetta da Verdini. Da un partito, ripeto, da un politico che ha più processi che elettori. Non c'è da dire nient'altro. La nostra proposta è chiara. Nei prossimi giorni nelle piazze d'Italia e in rete raccoglieremo adesioni per una carta dell'onestà che raccoglie tutte queste proposte di buonsenso ed altre che il Movimento 5 Stelle da quando è in Parlamento ha fatto. Sono soluzioni. E vi chiedo davvero di riportare questo termine, perché noi stiamo producendo delle soluzioni contro un'emergenza che si chiama corruzione. E corrompere significa rompere in tanti pezzi. La corruzione ha distrutto la sanità, la scuola pubblica, la politica, la pubblica amministrazione, il futuro dei cittadini, il presente dei cittadini italiani. La corruzione è legata alla diminuzione dei posti di lavoro. Se sconfiggi la corruzione o combatti la corruzione ha delle risorse da investire per creare posti di lavoro. Il politico che ruba i soldi che finiscono nelle tasche di un politico sono meno soldi che finiscono ai servizi per i cittadini, meno soldi che possono finire a sostegno della piccola e media impresa. L'impresa che per ottenere un appalto pubblico corrompe, fa danno a quell'impresa che avrebbe diritto di ottenere un appalto in maniera onesta. Per questo il DASPO verrà applicato anche a quelle imprese che vengono pizzicate appunto con le mani della marmellata. Se tu sei un'impresa privata e ha corrotto un politico per ottenere un appalto pubblico, tu non potrai mai più partecipare a bandi pubblici. Questa è la proposta del Movimento 5 Stelle, il DASPO per le imprese come c'è il DASPO appunto per i corrotti. Se sei stato condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, i reati da colletti bianchi, i colletti bianchi in questo paese in carcere non ci vanno, tu non potrai mai più partecipare a delle elezioni. Questo è un paese che vive un dramma, è un paese in cui se non paghi il canone rischi il carcere da otto mesi a quattro anni, ma se ti chiami Verdini e vieni condannato per corruzione rischi che il Presidente del Consiglio ti faccia padre costituente. E questo per noi è inaccettabile. Renzi, vediamo che cosa fa, la faccia l'hanno già persa, se non la vogliono perdere del tutto Renzi e Guerini, questa è la nostra carta dell'onestà. Grazie a tutti. Grazie.